Da centro di riferimento regionale per la protesica mininvasiva a ospedale dotato della più recente tecnologia per l'ortopedia chirurgica e ritorno. Il passo è piuttosto breve. Parliamo della parabola del San Bassiano, delle schede ospedaliere varate dalla regione, dell'arrivo del robot Mako Striker e della dismissione di quest'ultimo che va a braccetto con le dimissioni del primario di ortopedia Giovanni Grano. E ne parla anche il vice presidente del Consiglio regionale Veneto Nicola Finco in un'interrogazione alla giunta regionale nata per capire cosa stia succedendo al San Bassiano rispetto a quanto previsto. Già perché l'obiettivo di fare dell'ospedale il riferimento dell'attività protesica mininvasiva regionale era stato inserito nero su bianco nelle schede varate quasi cinque anni fa. Ma andiamo con ordine, torniamo al momento in cui era stato annunciato in pompa magna l'arrivo del robot per l'ortopedia chirurgica come punta di diamante di un'offerta regionale. Ecco, ora avanti veloce fino a pochi giorni fa quando il robot è sparito dalle sale operatorie. Eppure la Commissione regionale per l'investimento in tecnologia ed edilizia aveva espresso parere favorevere alla procedura di gara anche per ottenere una valutazione statisticamente significativa della tecnologia. Solo nel periodo fra l'aprile del 2021 e l'agosto dell'anno successivo erano stati eseguiti 102 impianti con il robot ortopedico, ricorda il vicepresidente Finco nel provvedimento. Di questi 87 all'anca, 15 al ginocchio, ovvero il 14% dei 753 interventi programmati eseguiti dall'inizio dell'utilizzo della piattaforma. Motivo ribadisce il consigliere regionale della Lega per il quale l'Ul7 ha deciso di acquistare ulteriore materiale di consumo per il robot. E poi? Poi il direttore generale Carlo Bramezza ha degrettato lo stop al macco striker in una riunione di dicembre e a luglio l'azienda sanitaria ha scritto all'azienda fornitrice dell'apparecchio di venircelo a prendere. Grazie e tanti saluti. E qui la politica interroga la sanità per fare chiarezza su quali siano le motivazioni che hanno portato alla dismissione del sistema, che aveva contribuito a consolidare il livello di eccellenza dell'ortopedia protesica mininvasiva del San Bassiano. Perché è stata affermata l'esperienza? Su quali dati si è basata questa scelta? E poi chiede Finco nell'interrogazione se sia in previsione l'acquisto o l'utilizzo dello stesso di un altro sistema per il medesimo reparto o per un altro plesso ospedaliero dell'Ul7 con le medesime finalità. Domande, tante domande, più o meno le stesse che si pongono e ci pongono i cittadini.